Farmacia Carino, Corso Umberto I 309 a Cava dei Tirreni, ci prendiamo cura di te. E' stato fermato ieri sera a Nocere Inferiore un 27enne con seri problemi psichici che per tre giorni ha seminato il panico a Cava dei Tirreni e nell'agro Nocerino Sarnese, con ben sette sparatorie e due feriti. La cattura è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nocere Inferiore, diretto dal vicequestore aggiunto Luigi Amato, dopo articolate indagini e ricerche condotte unitamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri. L'autore dell'esparatore è Luca Criscuolo, incensurato figlio di una nota estimata famiglia di Nocere Inferiore. Il giovane, laureato in scienze turistiche, sembra che già da qualche tempo soffrisse di seri problemi psichici per gli investigatori e lui l'autore dell'esparatore in sequenza avvenute negli ultimi tre giorni a Cava dei Tirreni, Nocere Inferiore, Pagani e Sarno, con una pistola semi-automatica modello clock calibro 9.21, il clou della follia nella giornata di ieri, sempre a bordo della sua autovettura una Fiat Grande Punto di colore grigio. Alle ore 15.15, a Pagani, in via Alcide De Gasperi, nei pressi di una nota pizzeria, il giovane ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco in direzione di un'autovettura appena parcheggiata. Successivamente, alle 17.45 a Sarno, in prolungamento Matteotti, l'uomo ha fatto fuoco verso un'insegna di un bar e di una moto parcheggiata nelle adiacenze. L'episodio più grave, tuttavia, si è verificato poco prima delle 19 a Nocere Inferiore, in corso Garibaldi, dove un 67enne è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco ad entrambi gli arti inferiori. Pochi minuti dopo, sempre a Nocere Inferiore, nei pressi dell'ufficio postale di via Marconi, dalla stessa autovettura sono stati esplosi altri colpi di arma da fuoco, senza colpire, per fortuna, i numerosi presenti in zona a quell'ora. Una volta fermato, agli agenti del commissariato di Nocere Inferiore, il giovane ha ricostruito, attribuendo a sé, tutti gli episodi criminosi che si sono verificati nella giornata di ieri, nonché altri episodi dei giorni precedenti a Cava dei Tirreni e Nocere Inferiore. Con il ferimento della giovane ventenne Maria Pia Principe in piazza Abbro e del danneggiamento della vetrina di un parrucchiere, dopo tre giorni di terrore, in cui Cava dei Tirreni e l'agronocerino sarnese temevano una recrudescenza della criminalità organizzata, è stato appurato invece dagli inquirenti che dietro questi episodi c'era la mano di un uomo con seri problemi mentali, la cui follia avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie.